Non inganni il lucchetto posto alla storica cancellata di ingresso di via Belvedere. Gli orti giuli, polmone verde del centro peserese con quasi 200 anni di storia, sono tuttora un luogo aperto al pubblico dal suo ingresso laterale, ma è anche un parco che da qualche anno è completamente sparito dai radar della programmazione eventi al suo interno. Un luogo della cultura che manca all'appello di Pesero Capitale a causa del naufragare di diversi progetti di rilancio che non smettono però di essere rimarcati da più parti. Vedi il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle. È veramente assurdo che da circa 20 anni abbiamo un posto così bello che è praticamente interdetto all'uso pubblico. Quindi noi abbiamo delle proposte che sono molto semplici. Prima di tutto completare i lavori, non parliamo di bar per favore. Parliamo di un luogo che sia destinato alla cultura, destinato alla condivisione, a fare appunto cultura e aggregazione per i cittadini. Poi ci potrà anche essere un punto di ristoro, ma non vedo la centralità del fatto del bar che mi lega più a un discorso di piadina e salsiccia che non è consono a questo posto. Quindi una volta riqualificato il posto dovremmo parlare di destinazione che dovrà essere obbligatoriamente una destinazione culturale che possa dare spazio alle tante iniziative che Pesero ha messo in luce. Mi viene in mente, da una collaborazione con la vicina Biblioteca San Giovanni, abbiamo qui vicino l'Istituto Agrario con il quale sarebbe importante attivare una collaborazione proprio per rivalorizzare quelle che sono le piante, l'orto botanico che è scomparso e tutto quello che ci siamo via via persi in questo tempo. Ma soprattutto quello che fa emergere questa lunga storia è il fallimento di un certo tipo di politica che è più tesa a difendere gli interessi di bottega che quelli veramente della città. Noi siamo molto pragmatici, cosa vogliono i cittadini? Vogliono riappropriarsi di questo spazio. Quindi facciamolo attraverso una politica partecipata, coinvolgendo proprio i cittadini. Gli orti giuli vengono curati da una manutenzione ordinaria periodica, mancano però tutti quegli interventi di ampio respiro rimasti sulla carta dopo il fallimento dell'ultimo progetto di rilancio. Si trattava di un grosso lavoro di ristrutturazione che però prevedeva un finanziamento importantissimo da parte dei fondi del PNRR che purtroppo sono andati persi, incredibilmente proprio per la mancanza di un vincolo che è stato il punto chiave che ha dato il via libera ai lavori. Quindi da una parte ha sbloccato una situazione e dall'altra ha impedito uno sviluppo importante. Abbiamo perso purtroppo un milione e mezzo di euro di finanziamento che sarebbero stati straordinari per completare ogni genere di lavoro. Bisognerà a questo punto rivolgersi all'Europa, bisognerà rivolgersi altrove per trovare fondi importanti per questo posto. Noi contiamo nel giro di pochi mesi di sbloccarla definitivamente questa situazione. È una situazione nata male purtroppo che ha creato diversi problemi all'amministrazione. Si sta lavorando però non solo per sbloccare questa situazione ma anche per ridare dignità all'Osservatorio Valerio che è uno dei punti decisamente unici non solo nella nostra città ma nella nostra regione. Per quello che riguarda invece gli spazi verdi è un polmone verde appunto nel cuore della città che noi ci prendiamo cura in maniera importante. Questa mattina sono intervenuti i cantonieri di quartiere che stanno dando una grande mano alla città. Questo qui vuole essere anche un appello a visitarlo a chi magari non ci è venuto, non ci viene da tanti anni magari può fare una bella passeggiata nel verde nel cuore della città.